Un saluto a tutti da Los Angeles, mio nome è Simona Tenni, genzanese da parte di Pate e quest'anno volevo ringraziare tantissimo TeleCountry News per la vostra iniziativa infiorata diffusa, io vivo qua a Los Angeles da molti anni e avevamo prenotato mia moglie ed io un volo per venire a Genzano e visitare l'infiorata quest'anno ma purtroppo a causa della pandemia siamo rimasti bloccati. Quindi grazie ancora per questa iniziativa e avremo possibilità di godere dell'infiorata anche se in maniera diversa. Sabato sera sarò ospite di TeleCountry News per parlare un pochettino della mia decisione di venire qua negli Stati Uniti. Se vorrete potete trovare le informazioni sulla pagina Facebook e ci vediamo sabato. A presto, ciao!